Muro Lucano celebra nel mese di settembre il suo santo, vero San Gerardo, con una manifestazione anche questa molto attesa, quarta edizione per il Festival Nazionale delle Mamme e dei Bambini. E' una grazia di Dio sempre quando i santi vengono messi davanti ai nostri occhi. Loro hanno seguito Gesù fedelmente, la processione è il segno che noi vogliamo seguire loro per andare vicino al Signore e per questo chiediamo l'aiuto e l'intercessione della Madonna e dei santi. E' un santo che segna anche l'unione delle famiglie, ci sono tante mamme e bambini a corsi qui oggi. E' il punto più delicato della nostra società e Papa Francesco ci dice che è anche il punto più importante della Chiesa oggi. Per questo dobbiamo pregare molto e metterci a disposizione del Signore per quando egli ci chiede al servizio di tutte le famiglie. Siamo alla quarta edizione. E' un'iniziativa che di anni e anni migliora ed esprime un po' quel pensiero che ci siamo in certo qual modo dati e vogliamo far conoscere della valorizzazione della vita, dell'inno alla vita, dell'inno alla vita, del rispetto della vita, della qualità della vita, ma anche di richiamare quella invanzia negata, diciamo anche violentata, nonché del richiamo ad essere mamma. Oggi è un mondo senza mamma, si dice, perché comincia a diminuire questo genio femminile che è la mamma. La famiglia si dice sempre che è in crisi, non è in crisi la famiglia, è in crisi l'uomo. L'uomo con il suo bagaglio culturale, religioso, ma anche educativo e formativo. C'è da ripensare un po' e di rieducare le nuove generazioni. E' una festa importante che caratterizza questa cittadina e, come celebra, un santo importante per i lucani. Nella nostra Basilicata, nel sud, la famiglia, quantunque falcidiata dai messaggi alteranti che arrivano dai media, resta un valore. Come tale lo dovremo mantenere ed alimentare. Il nostro è un ruolo importante. Credo che San Gerardo dovrà aiutare anche noi a costruire una nuova relazione con i cittadini, una nuova relazione fra politica e società, perché senza una guida credibile e legittimata questa società non va da nessuna parte. Grazie a tutti.